Ciao a tutti, mi chiamo Maria Mastrorilli, come ben sapete collaboro nella gestione del blog educativo e pedagogico Il Giardino della Pedagogia attraverso la scrittura di articoli educativi e informativi. Allora, mi presento, sono un'educatrice professionale socio-pedagogica e lavoro a contatto con bambini e famiglie con difficoltà sociali, economiche e relazionali e al tempo stesso sto facendo anche la bellissima opportunità del Servizio Civile Nazionale. Spero che voi tutti possiate seguire il blog di Maria Sara, appunto Il Giardino della Pedagogia perché saranno affrontate delle tematiche educative molto importanti, tematiche pedagogiche educative importanti su vari argomenti e il 26 ottobre, infatti, ci sarà il mio articolo, il mio articolo sulla dipendenza affettiva, la cosiddetta Lopatition. Se avete seguito il blog, avete notato sicuramente che nei mesi precedenti è stato già pubblicato un mio articolo che riguarda la violenza intrafamiliare. Il prossimo sarà appunto quello sulla dipendenza affettiva, quindi mi invito tutti a leggere il mio articolo e a seguire il blog Il Giardino della Pedagogia. Ciao, a presto!